Si chiama Libertà Bis, l'operazione avviata nel gennaio del 2022 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Grotone, dopo l'arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti di uno degli indagati, sorpreso a cedere ad un acquirente 6 grammi di marijuana. Operazione che segue quella analoga del 19 giugno scorso, dove a Isola Capo Rizzuto sono state arrestate 5 persone per reati in materia di sostanze stupefacenti, aggravati dall'essere stati commessi nelle adagenze di luoghi militari o frequentati da minorenni. Oggi sono state eseguite dai carabinieri di Grotone e da quelli del comando provinciale di Verona altre 6 custodie calterari in carcere nei confronti di 6 soggetti già noti alle forze dell'ordine in quanto pregiudicati, accusati di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree del centro storico di Isola Capo Rizzuto. Almeno 150 gli episodi documentati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti quali cocaina, eroina, marijuana e ashes, con il sequestro di dosi, talvolta approvvigionate nel centro storico del capoluogo pitagorico per il successivo smercio a Isola Capo Rizzuto. Al termine delle attività di rito, 3 dei 6 arrestati sono stati portati nel carcere di Grotone e gli altri 3 presso l'Istituto Penitenziario di Verona, poiché i due di loro vi si trovavano già detenuti per altre cause, mentre il terzo è stato rintracciato a Caprino Veronese, dove si era spostato da qualche mese per ragioni lavorative. Nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati, sono stati anche rinvenuti nell'abitazione di uno di essi 30.000 euro in banconote di vario taglio, sottoposto a sequestro penale in quanto ritenuto il frutto dell'attività di spaccio.